Contro chi siamo? Contro Rush Soraka, qua vogliamo cure infinite, a posto, ok, bene 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 bene, dopo facciamo tutte le altre cose che avete chiesto, le clip, le robe, raga, purtroppo va così, vabbè, ci sono. Cosa avete detto mentre non c'era, adesso leggo tutta la chat, leggo tutta la chat da prima, da Bella Cugino come va, comunque continua così, ciao Master, grazie mille, secondo me le riduzioni cure arriveranno solo dopo il minuto e venti, anche secondo me, continua in diagonale, ciao Sedia, buono, tant'è Sprigia, non si va in bagno, ciao Sophie, buonasera, sei una merda, no no, amore mio ti amo, ok, aspettate un secondo, sì sì sì, sì, siamo, Allora sì Siamo troll picker Di professione Buonasera E siamo anche in live Ci penso io Come ci avete scoperti Ok Questa cultura musicale pianga Visto suggerimenti Bene se n'è già andato Questo si è rotto i coglioni di giocare con noi No no invece sono streamer 2 Vabbè ci penso io a dirglielo ragazzi Ma non so chi l'aveva chiesta Il gatto è andato in bagno Ma tanto è giumi Stox Ok letto tutto Ok perfetto letto tutto ragazzi L'ho chiesto io bella rap E ma no Va bene va bene Ci hanno Ci hanno trovati Grande Ma ultimamente Siamo diventati molto famosi ragazzi Ormai qui in bronzo Divertiamo Come mai essere tutti Tutti nella stessa casa È bella questa cosa in realtà Perché Così possiamo giocare bene insieme Ci divertiamo Ok Allora siamo contro questa bellissima bot lane Adesso stiamo a fare il 2 Mancano 2 minion L'orange ha fatto Anzi solamente Ashe Ok ok mi piace Più o meno Madonna è guardato qua Ah Distrutta Guardate quante cure Immortale Questo Aatrox Questa è la potenza Proprio sovrumana Di questa bot Immortale Ma chi è rap Ah è su codice Non trolliamo i nostri stessi fan Operatore dei bronzi Ormai sì ragazzi Sono diventato il dottore dei bronzi Eh Ah Ho bisogno di risposte Sondaggio in chat Eh sì sì Proprio questo ti copia il nil Guardate puoi fare il flash Mentre fai Q Come quando fai la E E cosa ho appena fatto Sono il vostro boia Bordari Buono 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 Ah tu dici Fare prima il Q E poi il flash Ok Però sì Il concetto è quello Va bene va bene Ciao gatto Buonasera Lei è molto bello Mi piace il suo nome La cascia non è molto contenta Di stare vicino a me In questo momento Mi ha lanciato pure lei Ah un pochino di danno Chi ha più cure Ha più cure Soraka O ha più cure Yumi Atrox Buono 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 Bene bene Sobbalzate come piace a me Cato per la voce di Atrox Ecco forse in inglese Questa è molto meglio È una delle poche voci che Però Eh Ai 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 Signorina Asce Siamo 2-0 per me E come facciamo adesso Ehi ciao Ciao Cesare GG Si è già arreso Perfetto Ha visto che la nostra combo è immortale Troppe cure Si no Abbio buonasera Troppe cure ragazzi Troppe cure Ok Ah no Tiriamo giù la torre Abbiamo già un bel po' di Fammi comprare qua Ho cliccato male Ho cliccato Mario È una mia impressione La splash art di questa skin Sembra molto più bella Della skin in game Ma veramente Sto Atrox Sembra un ciccione Ma Poverino Ma è l'armatura Dai Tu lo non sai Ma le armature Eh Ingrassano parecchio Questo è vero E inoltre sono molto pesanti Questo Atrox è bello È bello potente Come funzionano le cure di Atrox Atrox sicura Funziona così Diglielo io Vediamo cosa ti fa E no Davvero Atrox ha una passiva Che è questa Che tipo Ogni tot Si cura di un sacco In più Questa passiva qua Che è fortissima Cioè Atrox ottiene 20% di rubavita Contro i campioni Ok E è aumentata Mentre hai in ulti Cioè Tu quando attacchi un campione Ti curi del 20% I danni che fai Basta Così Proprio di passiva È la passiva Capito È per questo che Atrox È così potente Eh sì È così È per questo che porto Io Ragazzi vi dico subito una cosa Siete avvertiti Io non sono Un esperto di Atrox Ma vi faremo vedere appunto Come questa cosa Può essere broken Perché ovviamente Vi curate un sacco Pensate un esperto di Atrox Che magari È ancora più bravo di me Che gioca sempre Atrox Cosa può tirarci fuori Guardate qua Già Zero danni mi hanno fatto Quindi Non mi piaccio per tornare a Firenze Uh Va bene Allora l'hai scusato Ancora che usa In mezzi pubblici E non i teletrasporto Secondo me In quale anno Verrà inventato il teletrasporto Vediamo chi indovina Poi aspettiamo ovviamente Che venga inventato Vediamo chi vince Nei videogiochi esiste già Vince punti il canale Eh sì Chissà quale sarà la piattaforma Di streaming Chissà Cosa si farà tra 600 anni ragazzi Voi lo siete mai chiesti No Dai No Va bene è stata brava Per una volta è uccita dalla mia catena Aspetta lei mi sta facendo un sacco di danni Ma adesso noi Torniamo all'attacco ovviamente Ecco qua Loro erano full vita E noi avevamo questa vita Indovinate cosa è successo Loro sono spariti E noi siamo rimasti con questa vita Atroxiumi ragazzi Immortalità Dovete rivederli Pronostico già finito Pronostico già finito Perché? Cos'è che era il pronostico? Compriano i nemici Veduzione 1 Ah sì L'hanno già comprate Ragazzi Al minuto 20 Non sono stupidi Non sono stupidi Ok Non sono stupidi Questi nemici Ok Ora che hanno riduzione cura Vedremo se effettivamente Funzionano contro di noi Oppure nemmeno la riduzione cura Ci Proprio ci scalfisce Ci importa qualcosa di questa riduzione Tu vieni qua a rompermi i coglioni Ok Ho deciso di morire Bene Scappa scappa puttanoglia Madonna Questa soraca Quanto fastidiosa Ma guarda C'è loro vengono a darci fastidio Ma poi flashano Perché Ammazziamo Un rodino Grazie per la sub Passiamo subito Questa Che ci fa delle cure Ok Oh finalmente Siamo potuti Recollare Mamma Va bene Adesso stiamo per finire il primo oggetto Grazie brodino Dei quattro mesi Bentornato dalle vacanze Bentornato a Firenze Questa cosa è molto importante Leggi il mio messaggio di prima Importantissimo Rimandalo Chi l'ha comprata L'ha comprata Ash Che Ash Ha detto GG Però si era rotto i coglioni Almeno ha pensato Vedete Gli abbiamo dato da pensare Abbiamo migliorato questi bronzi Grazie a questa cosa Perché gli abbiamo messo contro Solo cure E allora Gli abbiamo messi contro una scelta Prendiamo la riduzione cure subito Sì Brava Infatti mi ha ucciso Complimenti Questo funziona Così si gioca Brava Ash Vi aspetto E andiamo Qua ce li possiamo fare tutti Anche una bella ulti Aiaiai Ma donna santa Anche loro eh Non scherzano come cure Ma abbiamo pure quello Ma non lo so Maronna mia E che è successo Sono spariti tutti Incredibile Che poliz Che strage micidiale Esatto Bravo Kled Bravo Kled Ciao Lurens Buonasera Ciao XRGMA Buonasera a tutti E' mo' si amplirmi qui Guarda 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 Stai fastidio Ci stai dando Molto fastidio Puttana Puttana Ok 40 secondi Ash ha già comprato L'oggetto finito Cioè non si è Non si è bastato Porca puttana Proprio l'ha concluso Come primo oggetto Cazzo Questa è una sick aggressività Mamma mia Ash dà proprio fastidio Peccato per il silence Non ho più potuto far nulla Assi Mannaggia Mannaggia Va bene Va bene Per ora Le riduzioni cure Ci fanno ancora male Giustamente Perché non ho ancora Molte cure Ma tra poco Arriverà L'idra famelica Tra poco Anche Yumi Si potenzierà E ha già Comprato La pietra di luna Rinnovata Che dà ancora più cure Quindi Piano piano Queste riduzioni cure Si sentiranno sempre di meno Anche perché poi Arriva la danza della morte Arriva la visage Che aumenterà le cure Che ricevo Quindi Si Per adesso ci dà fastidio Signorina Ash Ma piano piano Più il tempo passa E meno fastidio ci dà Perché la sua riduzione cure Ha raggiunto il massimo Che può avere La mia cura Invece Ancora no Ed è questa la cosa forte Ho apparato un po' a caitare Si è stata brava È stata brava Mo andiamo Dritti per dritti Sulla nostra preda Meglio bene Signor Rick Allora mi sa che Non ci seguono Ragazzi Ci sono piedi Eh vabbè Mamma mia Ho imparato pure a caitare Che è successo? Che è successo? Complotto E mo che Ash è morta Io mi curo Attenzione Graves è molto utile Il suo aiuto Anzi forse no Anzi forse no Però È venuto qua Per prendersi le plate Ok dai Il teletrasporto Come detto in passato Esiste Di già E c'è la foch Che lo ha annunciato In là E quando gli ho chiesto Di uscire i piedi Ma no Cazzo Amore Hai ragione Si è stato molto attento Non pensavo che qualcuno Ci fosse stato così tanto attento Però la persona Che aveva fatto la domanda Giustamente Si ricorda la risposta Lei è bravo Signor More Lei è stato molto bravo Madonna Ash Quanto mi slowi Josh comunque Si rompe tanto Il cazzo da sola Poi ci metti pure Riduzione pure Eh Guardala Guardala Come sta attenta Ok Attenzione signorina Ash Quanto la odio Questo è tutto l'odio Che ho per lei Glielo sto mostrando Così una volta Mamma mia Ma cosa ho fatto Tripla Così Cosa sta succedendo No No Volevo fare Quadrara Eh vabbè niente Niente quadrara Peccato Però va bene Gravato Gravato No 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 Lasatemi stare Oppure no Buongiorno Xin Ma ciao Ma cosa ha fatto Sto a raga a stare lì Mamma mia Ciao ecco Buonasera No Lo stesso di me che volevo andarci Hai curato lui Adesso non è più male Vabbè dai Non serve Non serve Ok Ok ma non hanno riduzione pure loro Vero? Ah possiamo stare all'auto attaccarli Va benissimo Tanto qua Oh Perfetto Sono tornato fuori Ce ne andiamo Non mi preoccupate Un attimino Ecco qua Guarda pure l'insalata Bisogna stare E mangiare sano qua E c'è pure La landa dell'oceano Giusto per non farci mancare nulla Vai vai Andiamo Tutta mia Sono diventato Al quale Al quale un tempo Mi opposi E 3700 di gold Ora ne ho un po' meno Però sono più forte Perché i soldi esistono per essere spesi Oh ma quanta gente mid Se leviamo dal cazzo Ash Però non ce la facciamo Cazzo quanti ccc che mi hanno fatto Di 5 secondi e 6 3 e 4 Le ho passate stunnato Sia dalla prigione runica Di Ryze E non so da che cazzo Altra La ulti di Ash Però erano i lì cazzo Mi sa durasse meno Eh ma la ulti di Ash È sempre fastidiosa Invece no Eh no no Erano un pochino Un pochino preparati Avevano tutte le abilità pronte Mi piace comunque Che Yorix sia così aggressivo Mi piace Mi piace Ecco mi piace un po' meno Vabbè Amen Comunque dai Ci sei quasi Yorix Stai per distruggere tutto Yorix è troppo forte come campione È davvero fighissimo E Puoi pushare la top line E fare quel cazzo che ti pare Che davvero nessuno ti può dire nulla È una cosa OP Ok Eccoci qua Eccoci qua Tra il silence di Soraka Il cicci e gli slow Mamma mia che fastidio questa bot Oh ma che bello Finalmente possiamo dirlo Il nostro giuso Zero 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 Compie ben 32 anni Ma siamo stas Per fanculo Ash Sperando che non venga perseguitato anche lui Tanti auguri da tutti Buono E adesso dai via moturro Buono Ragazzi Cosa vi avevo detto Guardate siamo immortali Siamo qui Camminiamo sotto le torri Guarda guarda Vieni a affrontarci È arrivata la stronza qua Eh Non ha molta vita però Ok Fine della riduzione Cura Torniamo a curarci un minimo Ah Ok Va bene va bene dai Ci sta Purtroppo la riduzione cura dura 3 secondi Quindi anche dopo che la uccido Sono ancora in riduzione cura Però va bene Non c'è nessun altro che le ha comprate per ora No Sterak fatta Altre cure in arrivo E adesso andiamo verso la danza della morte Che mi diminuisce i danni che subisco Più Quando uccido un nemico mi curo E mi rimuove quei danni che dovrei subire In quei 3 secondi rimasti Quindi top 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 E poi dopo Corazza Ciao Dark Cloud buonasera Mi ricordo una volta che stavo giocando con una Ashe ed io ero rail Praticamente sta qua era una pacifista E la tristana nemica ne ha approfittato nella mia mancanza di danno Giusto purtroppo è troppo lungo non riesco a leggere Però comunque si capisco Ho capito cosa dovevo arrivare Comunque con lei puoi cancellare l'animazione degli autoattacca e autoattacca Sì l'ho capito lo so Kat Però lei voglio tenermi una sempre per la Q E non caga del festeggiatto maleducato Stavo facendo un'azione Comunque 32 anni per 0 0 0 Oddio Che cazzo è 0? Giuso Ah giuso Ho tanti auguri giuso Tanti auguri di buon compleanno Pure il tuo compleanno Mamma mia oggi Lei è un fortunello Perché qui si compie gli anni se si è fortunati Altrimenti si compie gli anni Buongiorno Salve Dove andiamo? Ah ecco Torniamo indietro Sì Vai Ma C'è stato che ce l'hanno con questa top lane Anche tu hai preso riduzione cure Giustamente Ah ragazzi Yorick ha comprato l'oggettino magico Yorick ha comprato riduzione cure E che facciamo qui? Ma questa stranza non me la applica la riduzione cure Ah Quindi è un po' un champion sfigato Yorick Poverino I suoi schiavi non applicano le cose che lui possiede Ti piace Veikar come campione? Mi fa vomitare È tipo il quarto campione che odio di più Ah no Tra È nato Non era mia intenzione Quando ho visto tutti lì Stavendo visto le riduzioni cure Ciccici Aspettiamo che Che siano i nostri compagni A preparare Vabbè Vaffanculo allora Faltiamo noi Qua non si può fare niente Devo girarmi prima Sì però Va bene Va bene Va bene Va bene Ci sta Ci sta Cazzo Cazzo mi sono girato ragazzi Li ho smontati tutti Non pensavo di essere Di fare tutto sto danno Oh vabbè dai Un po' di gold reset sono stati fatti Gold reset per chi? Per rides assolutamente 1-6 Quindi adesso da di nuovo i soldi Fanno il barone E ecco far red Ok Ecco potrebbe anche farli tutti È 11-1 ecco Potrebbe addirittura fare qualcosa Non ce la fanno questi Sì ecco se li fa tutti Ci scommetto Qualcuno vuole scommettere con me Oppure il barone Mamma mia Ve l'avevo detto ragazzi Era meglio non scommettere con me Sì ecco potentissimo No ecco non sta facendo warwick Anzi no Ecco sta giocando davvero bene Realmente non so se sia smart o cosa Però comunque sia Sta giocando davvero bene Peccato che questa ulti di hash Che si è beccato Mamma mia Che giocatore signori Non aveva più carte da giocare Comunque bravo Complimenti Se è davvero bronzo Potentissimo Se non lo è Allora vabbè Qui sta Ok Chi era un ragazzo Di cui una volta Che mi aveva chiesto Ma ecco come lo vedi In low elo Ecco molto forte appunto Perché la gente sottovaluta Il suo kit che è fortissimo Che schifo la vita Comunque eh Suku Quando non sei sub Ci credo Sei stata sub Livello 3 per un mese Adesso è 0 Ho perso tutto Eh Ah Sì sono tornato a full vita Buongiorno Come va? Sono Aatrox Coglioni sopra Cosa facciamo? Ok ok Non posso fare niente Con Silence di merda Ok Vabbè Siamo ancora vivi Questo è l'importante Ci rifulliamo un attimo E torniamo all'attacco Tic Mazessi Regala la sub A Suku Sauro Eh Suku Hai visto? Che schifo la vita Ma non che schifo La community dei cugini Quella è bella Hai visto Suku? Eh È la mia amichetta Buono Dovrei fare la sub Di livello 3 Ai 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 E niente Allora Suku Per questo mese Rimarrà Poveraccia Povera Suku Poteva avere di più Zesty non ti apprezzano Hai visto? Zesty non ti hanno apprezzato Il top donator L'angolico ha detto Eh no Io stavo facendo di più Va bene Dai ragazzi Non vi preoccupate Non litigate Potrete donare la sub Potente a qualcun altro Sempre a flexare i soldi Tu invece Hai a flexato l'amore Ok Dai Non stanno flexando i soldi Stanno flexando l'amore Oh Brava Madonna A me la sub Kled Ma allora ci stai ascoltando Kled E allora potentissimo Grande Fa piacere Regalata Valo per il compleanno Eh Marò Aspetta Qui va male Aia Ok Comunque Nonostante Loro avessero Riduzione cure E riduzione cure Con anche Le cure Per loro Con Soraka Abbiamo fatto Un 1v4 Resistendo Tutto sto tempo E avevo soltanto Questi tre oggetti Manca ancora questo Che adesso Ho appena comprato Quindi Mmm Gustoso Gustoso Sapete cosa Forse la viseggio Addirittura Troppo Perché Cioè Diciamoci la verità Fanno tutto Danna D L'unico AP è questo Va bene la viseggio Mimilamente le cure Però Prenderla solo per quello Cioè a sto punto Facciamo che subiamo meno Anche se già ho tanta armor Eh Ah Già ne ho tanta Però possiamo averne Ancora di più Chi ce lo vieta E gli facciamo noi Le riduzioni cure A loro Vai Anche se già ne abbiamo di riduzione cure È una gara chi riduce di più È una gara chi riduce di più Noi abbiamo tre riduzioni cure Uno, due, tre E loro ne hanno due Uno o due Hurry up and end Mo' ragazzi Prendiamo il quarto drag Con l'anima dell'oceano Voglio vedere chi muore Voglio vedere proprio chi Cioè, va bene Ai 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 Qui la riduzione cure non basterà Mi sa Ciao Sissixin Siamo qui dietro Ma ci ha visti? Bravo Sissixin Attaccami Voglio vedere il danno che mi fai Oh, benissimo Schiacciata Grande Kled Kled Se dopo scrivi in chat Ci dici chi sei Così a me non sanno Chi sei anche in chat Magari ti arriva la sub Potrebbe arrivare Buono, buono Mi è piaciuto questo Questo kill qua Magia c'è una torre che ci attacca Ragazzi Va benissimo Ecco qua Vai, ci piace Ci piace Ottimo Dai Graves Ma Graves Che tryhard è? Graves Mi chiamo Tao Tronci Ah, ok Eh, non lo so chi sei Forse non scrivi molto spesso Ciao Darkcloud, buonasera E niente Graves ha voluto concludere subito E vabbè, dai Qui sta Non ti stai stessi lavorando No, a quanto pare L'agolico è qui tra noi L'agolico Molto bravo Allora Adesso ragazzi Faremo una cosa molto bella Mamma mia 23,6 Ottimi danni Adesso andiamo a vedere Le nostre cure Dove si vedono le cure? Guarigioni Queste sono le guarigioni Che tu fai agli altri O quelle che dai Pure alleati Queste sono quelle che dai Ok Yumi Poi la stessa cosa Praticamente Ok, qua nelle guarigioni Viene contato tutto Quindi Yumi ha curato 26.000 Agli alleati E si è curata Altri 3.000 Da sola Invece io da solo Mi sono curato 26.000 Ok E ho subito In meno 76.000 Danni Cioè Questi sono i danni Che Ho ridotto Queste sono Le statistiche Di questa partita Che avete appena visto Con questa super cura Quindi Guarigioni Mi sono curato da solo 26.000 Yumi mi ha curato Di Di 26.000 E mi ha dato anche 14.000 Di scudo E mi ha fatto subire Tra tutta questa roba 76.000 danni in meno Danni subiti Sono quello che ne ha subito di più Va bene Posto ragazzi Queste sono le statistiche Aatrox Yumi Nonostante loro fossero partiti Come primo oggetto Il memento mori Che subito riduce Fino al 60% Siamo riusciti a fare questo Perché comunque Non basta la riduzione cura Per Se tu hai tutta sta roba Sì ti riduce il 60% Ma il 60% Di 10.000 Rimane comunque 4.000 Ed è tanto Ok 60% ridotto Ti rimane quel 4.000 Su 10.000 Ok Questo è il concetto Beh